ciao sono chiara focaterra responsabile del dipartimento progetti in apre oggi sono qui per presentarvi i nostri corsi di formazione sulla progettazione in horizon europe quattro moduli il primo riguarda la progettazione in horizon europe e vi presenteremo i formulari e i modelli per la scrittura di proposte di qualità all'interno del programma quadro di ricerca e di innovazione il secondo modulo riguarda la progettazione di proposte impact oriented quindi proposte che riescono a rispondere all'esigenza di portare la scienza verso la società il terzo modulo riguarda la co definizione insieme propri partner delle idee per la scrittura di proposte il quarto modulo riguarda la scrittura del piano di comunicazione disseminazione all'interno delle proposte attraverso attività per la scrittura di bozze di piani di attività di comunicazione disseminazione per scoprire di più sui nostri corsi andate sul nostro sito corsi punto apre punto it